Un'estate politicamente calda anche in Terriblea in vista delle regionali, se per la candidatura alla presidenza della regione l'unica certezza per ora è quella dell'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel centro-destra si attende cosa farà l'attuale governatore nello Musumeci. Secondo rumors, il presidente della regione siciliana sarebbe già pronto a fare un passo indietro e rinunciare alla ricandidatura. Al palazzo d'Orleans, il colpo di scena è arrivato durante l'inaugurazione di una mostra a Catania dove Musumeci per la prima volta ha evocato l'ipotesi di gettare la spugna. Nel centro-sinistra, invece, tutto deferito alle primarie del 23 luglio, la data si avvicina ed ecco che i candidati si aprono al confronto pubblico che in Terriblea è stato organizzato per questo pomeriggio in piazza San Giovanni a Ragusa a partire dalle 18. Presenti Caterina Chinnici per il Partito Democratico, Claudio Fava per il Movimento Centopassi e Barbara Floridia per il Movimento 5 Stelle che si confronteranno su infrastrutture e viabilità. Le presidenziali, inoltre, prevedono altri cinque incontri, ieri a Palermo, il 17 ad Agrigento, il 18 a Messina, il 20 a Gela e il 21 a Catania. Il Partito Democratico, quindi, punta su Caterina Chinnici, nata a Palermo nel 54 e la figlia di Rocco Chinnici, consigliere istruttore ucciso dalla mafia nell'estate dell'83. Laureata in legge sul suo sito, ricorda che è stata la più giovane magistrata in Italia a essere nominata a capo di un ufficio giudiziario. Nel 2012 è stata anche capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile. Per il Movimento Centopassi, Claudio Fava, oggi presidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, laureato in giurisprudenza, giornalista professionista dall'82 e figlio di Giuseppe Fava, giornalista e drammaturgo, ucciso da Cosa Nostra nell'84. Alla morte del padre, ha assunto la direzione del giornale I Siciliani, schierato contro la mafia. Barbara Fiorilla, infine, per il Movimento 5 Stelle, attualmente sottosegretaria all'istruzione, visiterà alle 14.45 l'Argo Software di Ragusa, ovvero l'azienda leader in Italia nei sistemi informatici per le scuole, e a seguire alle 16 incontrerà anche chi fa didattica fuori dalla scuola con progetti di alto valore sociale, come gli orti didattici e la sartoria sociale per le vittime di tratta della cooperativa Proxima. Alle 17 si ritroverà in Piazza San Giovanni, dove sarà allestito un tavolo informativo e di supporto alle registrazioni, mentre alle 18 avrà inizio il confronto con gli altri due candidati alle primarie.